Bologna, Padova, Napoli, Roma, Siena. La storia e i segreti di cinque tra le più antiche università d'Italia, raccontati da professori e alumni illustri. Io arrivo a Napoli nel 1957. L'università per un provinciale era una conquista. L'università guarda avanti, guarda avanti con nuovi progetti. Magnifiche storia e storie di università. Da lunedì 8 novembre alle 21.10, in prima visione su Rai Storia.